La prima a sfilare l'ordine di piano porta Alessia Piozzo Grazie Alessia per questa sfilata, grazie Allora adesso è il momento delle concorrenti, delle ragazze in gara Stiamo con la numero uno, Silvia Pigucci Vi ricordo che la lingerie è stata realizzata da Elisabetta Vincita Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti